... Tralasciando il fatto che ci sono dei cani che abbagliano dopo un'ora che penso dai ma non rimettiti a fare il video, dai ma non rimettiti a fare il video e hanno deciso di abbagliare proprio ora oggi vorrei fare un unboxing del mio primo Gumbla per i normi che non sanno che cos'è un Gumbla un Gumbla è un modellino montabile di personaggi di Mecha della serie Gumbla che non ho mai visto ma ovviamente ho deciso di prendere nemmeno uno per vedere com'è magari poi la serie mi la recupererò nel futuro prossimo perché ho tipo 40 serie su MyAnimalist da recuperare quindi non direi che è proprio il caso di raggiungere benzina con fuoco detto questo vediamoci qui dentro allora questo è il box il modello che ho preso è un SD ovvero un super deformer gli SD sono la versione potremmo dire i tipi dei Gundam normali ci sono varie categorie ma adesso magari spiegherò più tardi come funziona e ho deciso di prendere il Barbados Lupus della serie non lo so perché non mi interessa perché volevo solo farlo mi piaceva e l'ho preso questo è il fronte del box queste sono le parti laterali e direi che è il momento di aprirlo allora aprirete e oh no come mai che è già fatto è già fatto per il semplice motivo che volevo già farlo mi è arrivato ieri quindi l'ho già fatto però vi spiegherò in maniera parecchio breve oh mio dio qui che casino vi spiegherò in maniera breve come è stata questa mia prima esperienza nel montare un gupla allora c'erano due blister di cui uno piccolo per le giunture che è sempre quello più classicoso quello più oh mio dio adesso si rompe tutto e oltre a questi blister erano presenti anche gli sticker io essendo un malato psicopatico ho deciso di tenermi anche i cosini di quando vai a tagliare i pezzi perché non ci sto a posto con la testa e avevo bisogno di averli perché non volevo che qualcuno un giorno mi dicesse eh non l'hai montato tu invece si bastardo l'ho montato io vabbè comunque e oltre a questi pezzettini che tra l'altro visto che la busta è bucata sono usciti fuori però ci sono dei tagli adesso vi mostro un attimino come funzionano le istruzioni spero ok non ci sono ordinate allora sul front del libretto delle istruzioni potremmo vedere il gupla che come sarà alla fine cioè no perché questi sono customizzati ma noi siamo poveri e non ci interessa customizzarli anche perché è il mio primo quindi figuri si può aperto a guardare queste cose comunque si apre in questo modo strano sono 800 pagine come potete vedere questo è piccolino quindi sono soltanto 3 pagine di istruzioni e i pezzi sono tutti contratti allora i blister sono trassegnati dalle lettere e i pezzi dai numeri quindi sono facili da trovare basta seguire le istruzioni quindi quando vi dico qui per dire comincio a costruire la faccia dice A1 vi tagliate il pezzo A1 poi vi tagliate il B16 lo montate davanti poi montate gli sticker piano piano ma degli sticker parleremo dopo e pressoché le istruzioni sono molto facili da seguire e non c'è alcun problema ma adesso vi mostrerò alcuni highlights del mio montaggio che ho fatto tramite alcune foto che vi andrò a commentare adesso allora come potete vedere come era nel libretto ho cominciato dalla faccia dal volto o quel cazzo che è staccando questi due pezzi che poi andavano agganciati insieme gli sticker in questo caso sono stati abbastanza facili da montare nonostante fossero i primi che abbia mai messo in tutta la mia vita e considerando che non metteva una figurina negli album dei calciatori a posto suppongo che questo sia stato un ottimo risultato poi questa era una parte laterale che riportava sempre nel libretto qua gli sticker sono stati una cosa a terra emenda perché dovevano essere posizionati in luoghi profondi cioè non so neanche come spiegarlo è stato orribile basta questo e poi questa era l'altra parte e poi ho montato il tutto dopo aver montato il put va tanto non c'è bisogno di colo non c'è bisogno di niente va tutto in incastro ho staccato all'altro pezzo quella parte con il boomerang che aveva in testa e glielo ho incollato subito dopo tra virgolette incollato poi ho cominciato col busto che sta c'ho mamma mia ho messo ci ho messo mezz'ora a mettere qui gli sticker io non riuscivo a capire come cavolo gli ho tolto gli ho rimessi cento volte alla fine sono giunto a un risultato guardabile diciamo così poi ho continuato con l'altra parte del busto ho messo tutti gli sticker ho aggiunto la parte di dietro ho messo i primi perni le prime giunture e ho fatto il braccio l'ho fatto interamente perché è stato abbastanza facile ho fatto l'altro abbraccio e ho finito i piedi che sono stati la parte più facile da montare dicevamo perché la mia fotocamera ha deciso di morire di nuovo poi ho montato la specie di gonnellina che ha sosto è stato abbastanza facile anche questo gli sticker non mi hanno dato particolarmente problemi poi dopo di questo finalmente ho deciso di assemblare il tutto ad essere sincero il montaggio finale è stata probabilmente la parte più complessa da montare dell'intero set e ho avuto davvero tanti problemi perché montavo un pezzo se ne staccavo un altro e non ce lo entrava volevo uscire qualcuno però tutto sommato alla fine sono riuscito a montare finalmente e adesso ve lo faccio vedere come potete vedere per essere stato il mio primo non è venuto tanto male sono molto soddisfatto del risultato e credo che più avanti ne prenderò decisamente altri beh penso che per oggi sia tutto e mi raccomando vi ricordo di bruciare gli sticker grazie a tutti